L'agricoltura in Puglia guida la risalita dell'economia con una crescita del valore aggiunto del settore agricolo regionale del 13,97% rispetto all'anno precedente. Fortunatamente una ripresa robusta dopo le perdite registrate negli anni, tanto che il valore aggiunto nel 2015 segna comunque un ribasso del 2,44% rispetto al 2000, secondo i dati sull'andamento dell'economia agricola diffusi dall'Istot. Schizzati in 15 anni i consumi intermedi in sintesi, prodotti, beni e servizi di cui necessitano le aziende agricole che sono aumentati del 43,55% e i costi per i mangimi e le spese per gli animali del 33,98%. Indiscussi rispetto ai quantitativi nazionali i primati produttivi dell'agricoltura pugliese di uva da tavola, pomodoro, ciliegie, mandorle, olive, grano duro, carciofo e uva da vino. L'agroalimentare pugliese si rivela così il traino dell'economia regionale nel 2015, eccezione fatta per i cereali e i legumi che sagnano un calo di produzione e valore e tutti i comparti produttivi registrano un aumento in termini percentuali. Ancora in crescita il dato delle esportazioni del vino. Oltre ai numeri soddisfacenti di produzione e valore aggiunto, di pari passo vanno etica e corretti rapporti di lavoro per cui sono benvenute le norme come la confisca per sconfiggere il caporalato che va combattuto senza tregua perché umilia gli uomini e il loro lavoro. E su questo sta lavorando l'osservatorio sulla criminalità nell'agroalimentare che la Coldiretti ha promosso e sostenuto. Una grande azione di responsabilizzazione di tutta la filiera, dal campo alla tavola, per garantire che dietro tutti gli alimenti italiani e stranieri in vendita sugli scaffali ci sia un percorso di qualità che riguarda l'ambiente, la salute e il lavoro con una equa distribuzione del valore. Secondo un'analisi della Coldiretti sui dati Eurispes, al 1 gennaio 2014 erano 355 i caporali arrestati o denunciati dall'entrata in vigore del reato con la legge del settembre 2011.